Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui affronteremo il tema delle eccezioni. Le eccezioni sono il meccanismo principale che viene utilizzato in Java per andare a gestire gli errori e più in generale le condizioni anomale. Qual è il motivo per l'uso delle eccezioni? In generale quando dobbiamo andare a gestire delle eccezioni molto spesso capita che è opportuno andare a delegare a dei livelli superiori, normalmente in termini di livelli di chiamata, la gestione degli errori. Il punto in cui noi andiamo a rilevare l'anomalia o l'errore spesso non è quello più adatto per andare a gestirlo perché magari non abbiamo tutte le informazioni necessarie per andare a prendere delle decisioni o trovare dei rimedi. Ad esempio se devo scoprire che un file in cui devo scrivere non esiste o non è accessibile, il punto in cui scopro che quel file non esiste probabilmente non è il migliore per andare a capire cosa fare, ad esempio chiedere all'utente di scegliere un altro file. Per cui il punto in cui scopro l'errore e il punto in cui lo posso gestire spesso sono distinti. Un altro motivo per andare a utilizzare le eccezioni nella gestione degli errori è quello di andare a separare nettamente quelle che sono il codice di gestione degli errori da quello che viene utilizzato per l'esecuzione normale. Quindi quando io scrivo per la prima volta un frammento di codice non vado subito a pensare ai possibili errori ma scrivo quello che è il flusso nominale di azioni che vorrei fare. Ovviamente può capitare che ci siano gli errori e allora vado ad aggiungere dei frammenti di codice per gestire questi casi. Quello che vorrei fare è mantenere separati questi due blocchi di codice in modo che non possano interferire l'uno con l'altro e soprattutto sia più facile andare a comprendere quello che è il funzionamento del programma. Quando io ho delle anomalie all'interno di un programma molto spesso ho diverse fasi nell'andare a gestirle. Innanzitutto devo andare a rilevarle, quindi la detection è il primo passo, scopro che c'è qualcosa che non funziona o non va come mi aspettavo. Dopodiché devo andare a segnalare questo fatto e il segnale può essere gestito, rinviato in vari punti. Quindi il punto in cui lo scopo potrebbe non essere quello ideale in cui gestirlo, allora devo rinviarlo, instradarlo finché raggiunge il punto in cui il programma è in grado di gestire e il contesto in cui ci sono tutte le informazioni per porre rimedio. E poi c'è la gestione vera e propria, quindi che cosa faccio quando devo porre rimedio al problema che ho rilevato. Per gestire le eccezioni ci sono diverse tecniche. Una, quella più banale e più semplice, è quella di terminare il programma, che è un modo, diciamo, un po' banale e traumatico per porre rimedio a un errore. Un'altra tecnica un po' più utilizzata è quella di restituire un valore particolare da parte delle funzioni. Quindi una funzione quando scopre che c'è un errore restituisce un valore speciale che potrà essere controllato da chi poi utilizza e chiama la funzione. Un'altra tecnica è quella di utilizzare uno stato globale che permette di andare a verificare se ci sono stati degli errori. E infine c'è la tecnica delle eccezioni, che è quella che è propria e più utilizzata all'interno di Java. Primo esempio. Voglio terminare l'esecuzione quando scopro un errore. In Java esiste il metodo exit all'interno della classe system che permette di andare a fare questa operazione. System.exit riceve come parametro il codice di ritorno che verrà restituito al programma chiamante. Ovviamente questo metodo è estremamente traumatico e non permette di fare nessun tipo di recupero dell'errore. Inoltre la chiamata di system.exit non permette di andare a deallocare la memoria, chiamare qualunque funzione di rilascio delle risorse. Quindi è un uso sostanzialmente traumatico che non dovrebbe mai essere utilizzato se non per casi estremamente gravi. In particolare nei programmi che voi andrete a scrivere e che poi verranno testati, non dovete utilizzare system.exit perché se stiamo cercando di eseguire un test su un programma e questo chiama system.exit, ovviamente tutti i test poi falliscono. Un'altra tecnica molto utilizzata è quella di un valore speciale. Quindi quando all'interno di una funzione, di un metodo scopro che c'è un errore o qualcosa che non funziona, restituisco un valore speciale. Potrebbe essere null, ad esempio nella classe phonebook restituivamo null quando il metodo find non trovava un codice ricercato, oppure quando chiamo index.of per cercare l'indice di una certa sottostringa all'interno di una stringa principale, index.of restituisce in meno 1 quando non trova quel valore. Oppure, se pensiamo alla funzione pow che si trova dentro la classe mat, che permette di elevare a potenza, se io cerco di calcolare la radice quadrata di meno 1, ovviamente questo mi restituisce un valore non corretto. Nella codifica dei numeri double esiste un valore speciale che è not a number, che permette per l'appunto di andare a codificare questi casi particolari. Il problema nasce quando io ho dei valori che difficilmente riesco a identificare come speciali, per cui, ad esempio, se io cerco di concatenare una stringa vuota con null, quello che succede, che cos'è? E che sostanzialmente andrò a convertire null in una sequenza di caratteri, quindi null, ull, che è molto difficile da distinguere dal valore normale di una stringa. Quindi, come faccio a capire che effettivamente la stringa era nulla, oppure invece effettivamente avevo scritto la stringa in cui ho messo i quattro caratteri null? È impossibile sostanzialmente andare a fare questo tipo di rilevazione. Un'altra possibilità è quella di utilizzare una variabile globale. Allora, in Java questa tecnica non è mai utilizzata, ma ad esempio in C esiste una variabile globale che si chiama rno, che contiene il numero di errore quando alcune funzioni, specie di sistema, terminano con una condizione di errore. Non entro più nel dettaglio, che cosa vuol dire sostanzialmente avere la variabile globale oppure più comunemente il valore di ritorno speciale da parte di una funzione? Che in pratica abbiamo del codice molto complicato che richiede di andare a verificare ogni volta che chiamiamo una funzione qual è il suo valore di ritorno. Per cui, quando chiamo un metodo, dovrei andare a verificare se il valore di ritorno è uguale al codice d'errore, a questo punto gestire l'errore, altrimenti procedere normalmente. Questo tipo di tecnica, oltre a complicare il codice, praticamente permette soltanto a chi è l'immediato chiamante di un metodo di poter andare a effettivamente gestire l'errore. Oppure, chi chiama un metodo deve prevedere un codice di ritorno di errore che possa segnalare al chiamante del chiamante che il metodo ha restituito un errore. Questo ovviamente richiede una versione molto complicata del codice in cui vado a mescolare frammenti di codice con il codice normale che viene eseguito nei casi in cui non sono presenti errori con codice che invece deve essere iscritto per andare a gestire gli errori. Per cui mi ritrovo del codice nominale, quindi quello che qui vediamo arancione, inframmizzato con codice per andare a gestire degli errori. Tutto questo rende il codice molto difficile da leggere e da comprendere. Mentre invece, se utilizzo delle eccezioni, ho tutto il codice nominale raggruppato in un unico blocco e tutto il codice per andare a gestire le anomalie separatamente. Cosa sono le eccezioni e quali sono i concetti di base che stanno alla base di questa tecnica? Allora, l'idea fondamentale è che quando un codice, un frammento di codice, una funzione, un metodo che rileva una condizione anomala, questo lancia un'eccezione. Il codice che può lanciare un'eccezione può essere sia il codice che scriviamo noi, sia il codice di qualche libreria di sistema. A un certo punto, risalendo alla gerarchia di chiamate, ci sarà a un certo punto un metodo che può andare a intercettare questa eccezione che altrimenti viene continuata ad essere propagata di chiamata in chiamata e gestisce l'eccezione, ovvero intercetta l'eccezione e esegue qualche operazione che possa porre rimedio alla eccezione. In generale, in mezzo, ogni metodo che cosa può fare? Può sostanzialmente, semplicemente, decidere di rinviare la gestione dell'errore al chiamante oppure fare qualche operazione ed eventualmente rinviare ancora al chiamante per una gestione più completa. La sintassi Java prevede queste parole chiave. La parola chiave throw è quella che viene utilizzata per lanciare un'eccezione. La parola chiave throw è quella che invece viene utilizzata per andare a dichiarare che un metodo può lanciare un'eccezione al suo interno. E poi ho la coppia try e catch che permettono di andare a introdurre un frammento di codice in cui potrebbe essere generata un'eccezione e per andare a definire quello che è il codice che gestisce questa eccezione. Oltre a questo c'è una classe speciale che si chiama throwable che è quella che permette di andare a rappresentare l'eccezione, ovvero l'informazione associata alla condizione anomala. Cosa dobbiamo fare per gestire l'eccezione? Dobbiamo innanzitutto andare a definire oppure identificare se già ne esiste una appropriata classe di eccezione, dichiarare un metodo come potenziale sorgente di eccezioni, andare all'interno del metodo dove rileviamo la condizione anomala a creare un oggetto di tipo eccezione e poi lanciarlo. Quindi in pratica se facciamo riferimento alla classe stack che abbiamo utilizzato in qualche esempio precedente posso definire una classe che si chiama empty stack che estende exception quindi è la classe di eccezione e un metodo pop che lancia un'eccezione di tipo empty stack e quindi qui stiamo a dichiarare semplicemente che il metodo pop potrebbe in alcune condizioni lanciare un'eccezione. Qual è la condizione? Quella che vediamo qua, quindi se la dimensione è uguale a 0 cerco di fare un pop, creo un oggetto empty stack, la classe di eccezioni che abbiamo dichiarato separatamente e poi lo lancio con la parola chiave throw. Quindi la parola chiave throw permette di effettivamente lanciare l'eccezione. quando un'eccezione viene lanciata sostanzialmente l'esecuzione del metodo corrente viene bloccata, un po' come fosse un'istruzione di return, solo che non viene restituito nessun valore. C'è un valore che è l'eccezione che sostanzialmente viene fatto passare al chiamante, al chiamante del chiamante, eccetera, finché non viene intercettato, tramite quella che si chiama una fase di catching, ovvero la fase in cui io posso andare a intercettare, a guantare un'eccezione. In generale quando io ho un metodo al cui interno c'è un'istruzione di throw, devo andare a dichiarare che quel metodo può lanciare l'eccezione in modo da far sapere a chi usa quel metodo che effettivamente ci saranno delle eccezioni che possono essere generate e quindi saranno in qualche modo da gestire. Quindi a questo punto se un metodo ne invoca un altro che può lanciare un'eccezione sa che in qualche modo dovrà gestire quell'eccezione, dovrà intercettarla oppure farla passare al chiamante. Come funziona questo instradamento delle eccezioni? Beh, sostanzialmente diciamo che quando io ho a che fare con un frammento di codice che può generare un'eccezione perché c'è direttamente un throw o perché viene chiamato un metodo che può, o uno o più metodi che possono generare delle eccezioni, quello che posso fare io è, opzione 1, rinviare la gestione dell'eccezione al chiamante. Quindi sostanzialmente dichiaro nella signature del metodo in cui mi trovo throws e quindi sostanzialmente comunico al chiamante che può arrivare un'eccezione che non ho generato io ma ha generato qualcun altro. Posso intercettarla e quindi usare try e catch per andare a intercettare l'eccezione e fare qualche operazione per gestirla oppure posso fare un mix ovvero posso intercettare l'eccezione, fare una gestione ovviamente parziale e poi rinviare quindi fare un ray throw della mia eccezione passandola ancora al chiamante. Quando durante l'esecuzione viene eseguito un'operazione di throw quello che succede è che l'esecuzione come dicevo viene bloccata e l'eccezione viene fatta camminare su lo stack di chiamate finché raggiungo un livello in cui c'è un blocco catch che è in grado di intercettare questa eccezione. Oppure finché andando su risalendo lo stack di chiamate raggiungo il main e sostanzialmente a questo punto termina anche il main e quindi la java virtual machine che cosa fa? Stampa l'eccezione, stampa tutto lo stack di chiamata dal punto in cui era stata generata l'eccezione fino al main e termina l'esecuzione. Questo se ci pensate è quello che abbiamo visto un sacco di volte quando durante l'esecuzione dei nostri programmi veniva generata ad esempio una null pointer exception o una class cast exception. Quindi le eccezioni che abbiamo visto finora ricadono in questa categoria. Vediamo un po' più nel dettaglio come possiamo andare a gestire le eccezioni. La prima opzione è quella di rinviare l'eccezione al chiamante. Quindi immaginiamo di avere una funzione foo che chiama il nostro metodo pop che ricordiamo ci può generare un'eccezione di tipo empty stack. Se io non sono in grado in questo metodo foo di gestire la nostra eccezione di tipo empty stack è semplicemente dichiaro che posso lanciare un'eccezione di tipo empty stack. Quindi l'eccezione generata dal metodo pop sostanzialmente verrà rinviata al chiamante. Attenzione, se il metodo pop lancia un'eccezione questa istruzione di return non verrà eseguita. Quindi il return verrà eseguito soltanto se il metodo pop restituisce un valore normale e quindi restituisce l'eccezione, restituisce scusate il valore calcolato. Ovviamente io posso continuare a fare un throws e fare un throws anche nel metodo main. Quindi in questo caso semplicemente se viene generata l'eccezione il programma termina perché la Java Virtual Machine stampa i dettagli dell'eccezione e poi termina. Ovviamente l'altra alternativa, quella sostanzialmente opposta, è quella di andare a intercettare l'eccezione. Quindi dentro il mio metodo, immaginiamo di avere una strategia per gestire questo tipo di eccezioni, vado a mettere un blocco try catch, quindi all'interno del blocco try metto il codice in cui potrebbe essere generata l'eccezione. Poi metto il catch, l'eccezione che io voglio andare a catturare e poi del codice che in qualche modo gestisce l'eccezione. Attenzione, nel blocco try se viene generata un'eccezione l'esecuzione termina nel punto in cui viene generata e per cui le altre istruzioni seguenti non vengono eseguite, si salta direttamente all'interno del blocco catch che verrà poi eseguito. Attenzione quando voi avete istruzioni di return all'interno di un blocco try perché il compilatore, vedendo che qui può essere generata un'eccezione, sa che il blocco try catch potrebbe terminare senza nessuna istruzione di return e quindi vi segnalerà un errore di funzione che deve restituire un valore intero. Quindi ad esempio qui io ho aggiunto un return di 0 in fondo al metodo perché tutti i possibili percorsi, anche considerando l'eventualità in cui venga generata un'eccezione, devono comunque terminare con un return. Ovviamente è più semplice nel caso in cui abbia funzioni che restituiscono void invece di un valore. Terza opzione, faccio un mix del catch e del retrow, quindi dichiaro che posso lanciare un'eccezione, metto un blocco try catch e dentro il blocco catch faccio un throw dell'eccezione che ho intercettato. Quindi faccio una gestione intermedia parziale e poi rilancio l'eccezione in modo che il chiamante possa ricevere questa notifica e magari porre rimedio in maniera più completa a questa condizione anomala. Finora abbiamo parlato in maniera molto vaga delle eccezioni. Che cosa sono le eccezioni? Sono delle eccezioni, sono delle classi che derivano da una classe di base che si chiama throwable. La classe throwable è la classe di base per tutte le eccezioni. Da qui ovviamente le nuove eccezioni che io vado a dichiarare devono derivare direttamente o indirettamente. Che cosa contiene la classe throwable? Sostanzialmente contiene quello che è una fotografia dello stack di chiamate nel momento in cui l'eccezione viene generata. Inoltre la classe throwable potrebbe contenere un messaggio, quindi una stringa che spiega meglio qual è la causa che ha portato all'eccezione. E inoltre potrebbe contenere anche una causa, ovvero il riferimento a un'altra eccezione che è stata la causa dell'eccezione che viene generata. Nel caso in cui effettivamente io abbia un'eccezione magari più di alto livello generata da un'eccezione più di basso livello. La gerarchia delle classi che noi abbiamo predefinite in Java è sostanzialmente quella che vediamo qua. In pratica io ho la classe di base throwable che ovviamente indirettamente, implicitamente estende object, che ha due principali sottoclassi error e exception. Exception a sua volta ha una sottoclasse che si chiama runtime exception. Qual è il motivo di queste tre principali classi? Allora innanzitutto la classe error è quella che è pensata per essere la classe di base di tutte le eccezioni che segnalano errori o fallimenti della virtual machine. L'esempio tipico è ho finito la memoria e quindi sostanzialmente non è un problema del programma, non è stato generato da qualche fallimento o errore di programmazione, ma sostanzialmente la memoria della mia virtual machine è terminata e quindi io non posso più eseguire alcuna operazione. Mentre invece le runtime exception, che sono una sottoclasse dell'exception, rappresentano errori di programmazione. Quindi la null pointer exception che noi abbiamo visto tante volte è una sottoclasse di runtime exception. E poi esiste exception che normalmente è la classe che viene utilizzata per andare a definire tutte le eccezioni specifiche per un'applicazione o comunque eccezioni un po' più particolari. Quindi gli errori sono quelli che sono dovuti a un fallimento della virtual machine, le runtime exception sono eccezioni che derivano da errori di programmazione, null pointer exception è il tipo classico, e le eccezioni sono tutte le altre eccezioni che possono essere generate all'interno di un programma. Queste tre sottogruppi hanno delle caratteristiche diverse. In particolare gli errori e le runtime exception sono eccezioni che vengono cosiddette unchecked, mentre invece le eccezioni sono checked. Qual è la differenza tra checked e unchecked? Praticamente le unchecked exception non devono essere dichiarate, ovvero non ho la necessità di andare a dichiarare esplicitamente che un metodo lancia una eccezione di tipo unchecked. Di conseguenza il compilatore non andrà a richiedere che l'eccezione venga gestita in qualche modo. Quindi per le eccezioni normali io devo dichiarare che un metodo lancia un'eccezione e poi il compilatore mi obbliga a mettere o un ulteriore close per rinviare al chiamante oppure mettere un blocco tra i catch. Per le eccezioni di tipo unchecked queste necessità non sono richieste dal compilatore e quindi posso tranquillamente fare finta di niente. Il motivo è che sostanzialmente le eccezioni di tipo unchecked potrebbero essere generati in qualunque punto. Ogni volta che io uso una reference per accedere a un attributo oppure un metodo ecco lì potrei avere una null pointer exception. Quindi se java avesse obbligato a gestire anche le eccezioni di tipo unchecked il codice sarebbe diventato troppo complicato per cui la scelta di chi ha progettato java è stata di dire esiste un sotto insieme di eccezioni, le runtime exception ma anche gli error, che il programmatore comune non dovrebbe andare a gestire per cui non l'obbligo a gestirle direttamente. Qui ci sono alcuni esempi di eccezioni di vario tipo, ad esempio out of memory error è una eccezione di tipo error, poi abbiamo class not found, io exception che sono eccezioni normali e poi abbiamo null pointer e class cast exception che sono delle runtime exception. Quando io devo andare a definire delle eccezioni specifiche per la mia applicazione, ad esempio il stack empty che abbiamo visto prima, quello che faccio è di andare a definire una nuova classe che estende exception. Perché ha senso andare a definire delle nuove classi di eccezioni? Perché in pratica io tramite un blocco catch posso andare a intercettare proprio quel tipo di eccezione ignorando eventualmente altri tipi di eccezione, ad esempio null pointer exception e quindi ho la possibilità di avere un controllo molto più fine delle eccezioni che gestisco e di come posso rispondere. In generale ricordiamoci che un'eccezione ha una doppia funzionalità, è come quando io tiro una pietra per andare a richiamare l'attenzione di qualcuno. Ecco, tirare la pietra di per sé è già un richiamare l'attenzione, in più dentro le mie eccezioni posso andare a mettere un messaggio. Quindi posso andare a costruire le mie classi di eccezione andando a definire una serie di attributi e di metodi che permettono di fornire tutti i dettagli che possono essere utilizzati per andare a capire meglio la causa dell'eccezione e poi ovviamente essere in grado di rispondere a questa eccezione e di gestirla nel migliore dei modi possibili. I blocchi tra i catch, che sono quelli che utilizzati per andare a gestire le eccezioni, sono dei costrutti strutturati, per cui possono ovviamente essere annidati e annidare al loro interno degli altri costrutti. Un po' di attenzione è necessaria quando noi andiamo a gestire delle eccezioni che possono essere generate all'interno di cicli, per cui in generale io posso andare ad esempio ad avere un ciclo, al suo interno avere un blocco tra i catch, che intercetta potenziali e eccezioni e fa qualche gestione. Se io utilizzo questo tipo di struttura, all'interno del mio ciclo gestisco l'eccezione, salto nel blocco catch se trovo l'eccezione e poi continuo con la prossima iterazione. Un altro modo di andare a gestire le eccezioni quando io ho dei loop è fare il viceversa, ovvero mettere il ciclo all'interno di un blocco try. In questo caso, quando io ho una potenziale eccezione, automaticamente verificarsi l'eccezione mi fa saltare nel blocco catch, che si trova fuori dal ciclo while e quindi automaticamente termina il ciclo. Quindi in questo caso la mia esecuzione termina e non verranno eseguite altre iterazioni del ciclo, come invece avveniva nel caso precedente. Vediamo un esempio tipico di uso di eccezioni, in particolare di tipo unchecked e di cicli. Allora, questo è il caso in cui noi abbiamo un array di stringhe che contengono dei numeri e voglio andare a calcolare la somma di questi numeri. Quindi con un ciclo su queste stringhe faccio sum più uguale integer punto parsint. Ecco, parsint è un metodo che può lanciare una eccezione di tipo unchecked che si chiama number format exception, nel caso in cui la stringa che gli passiamo non contenga un numero. Quindi è ovvio che nel nostro caso, se andiamo a convertire 1 in un numero va bene, 2 va bene, nel caso in cui abbiamo il numero romano 3, questo non viene riconosciuto, per cui otteniamo quello che è un number format exception e ci dice per la stringa iii, che per questo metodo parsint non ha un particolare significato, c'è un number format exception perché quello non è un numero. Cosa posso fare? Beh, prima opzione, posso andare a mettere all'esterno del mio ciclo for un blocco try, che quindi intercetta le eccezioni e passa l'esecuzione al blocco catch. Quindi in questo caso, nel momento in cui ho una eccezione, quello che risulta è che automaticamente mi viene stampato un errore e ovviamente non mi verrà mai stampata la somma perché appena incontro un errore salto fuori dal blocco try, ma anche dal ciclo for e vado direttamente a eseguire il blocco catch. Se invece voglio andare a eseguire comunque la somma, quindi tollerare comunque gli errori, posso mettere un blocco try all'interno del ciclo for, per cui quando ho un'eccezione cosa faccio? Salto nel blocco catch, stampo che c'è un errore e comunque alla fine ho calcolato il mio valore complessivo. Per cui in questo caso andrò a stampare che 3 e 5 numeri umani sono errati, ma comunque vado a calcolare una somma. Ovviamente dentro il mio catch potrei fare operazioni più complicate, ad esempio a vedere se la string è un numero romano, trovare a convertirla e dopodiché se è effettivamente un numero romano andare a utilizzare quel valore per calcolare la somma oppure segnalare un errore se non lo è. Per cui tenete presente che io dentro il blocco catch posso scrivere qualunque cosa. Potrei anche al suo interno andare ad annidare un blocco try catch, perché nella gestione di un'eccezione io potrei andare a avere la chiamata di metodi che possono generare a loro volta eccezione. Se torniamo all'esempio del nostro parse delle stringhe all'interno di un array, io potrei avere un metodo che si chiama parseRoman, che è in grado di andare a decodificare dei numeri romani e questo metodo parseRoman potrebbe a sua volta andare a generare un number format exception nel caso in cui questo non sia un numero romano. Ecco, per cui dentro il mio blocco catch ho un altro try catch che prova ad eseguire parseRoman, se va a buon fine fa la somma con il valore decodificato in questo modo, altrimenti mi stampa un messaggio d'errore. In questo caso ho finalmente la somma che è corretta e quindi stampa effettivamente la somma di questi numeri tenendo conto dei valori eventuali dei numeri romani. Una possibilità che io ho quando utilizzo dei blocchi try catch è di andare a a definire più blocchi catch, che quindi sono in grado di intercettare delle eccezioni di tipo diverso. A questo punto dobbiamo capire come possiamo andare a selezionare un blocco piuttosto che l'altro, o meglio come la nostra virtual machine Java andrà a selezionare un blocco piuttosto che l'altro. La regola è che viene eseguito tra tanti handler, quindi blocchi catch disponibili, soltanto uno ed è il primo che corrisponde alla eccezione che è stata generata. Cosa vuol dire corrisponde? Vuol dire che praticamente presa la classe della eccezione che è stata generata, se questo è istanza di instance of della classe dichiarata nel blocco catch, allora quel blocco corrisponde e quindi verrà eseguito. Ovviamente è possibile che ci sia interferenza, quindi che la stessa eccezione possa essere potenzialmente gestita da più blocchi catch. Per questo motivo Java impone di andare a ordinare i blocchi catch per ordine di generalità, ovvero da quelle più specifici, quindi le classi derivate, a quelli più generali. Questo perché? Perché sostanzialmente se noi andiamo a mettere prima un catch di una exception, ecco, quello andrà a oscurare tutti i blocchi catch successivi, perché appena la virtual machine prova a vedere se quel blocco corrisponde, ovviamente trova che corrisponde, perché tutte le eccezioni derivano da exception. E quindi anche se metto altri blocchi catch, quelli non verranno mai eseguiti, quindi sono sostanzialmente irraggiungibili. Ultimo dettaglio relativo all'eccezione riguarda la parola chiave finally. Io posso andare a introdurre in fondo al blocco try catch la parola chiave finally, che permette di definire un blocco di codice che viene eseguito comunque in ogni caso. Viene eseguito se non ci sono eccezioni, se ci sono eccezioni intercettate da un blocco catch, oppure se ci sono eccezioni che non vengono intercettate su un blocco catch, perché magari sono eccezioni unchecked. Ovviamente il blocco finally non funziona se io chiamo system.exit, quindi di nuovo system.exit è un qualcosa che non bisognerebbe mai utilizzare, se non in casi veramente gravi in cui devo per forza terminare l'esecuzione. In generale, qual è il motivo di questo blocco? Mi risulta molto utile per andare a rilasciare delle risorse, per chiudere un file, per comunque fare qualunque operazione di pulizia necessaria alla fine di un'operazione, comunque sia andata l'operazione precedente. Per cui, ad esempio, se io vado ad aprire un file, posso andare a chiamare un metodo che potrebbe generare un'eccezione, gestire l'eccezione di I.O. e, alla fine, sia che ci sia stata un'eccezione di I.O., sia che sia andato tutto per il meglio, chiudere il mio file. Quindi, in questo modo, io ho la garanzia che, comunque vada a finire, il file verrà chiuso alla fine. Quindi, riepilogando, abbiamo visto che le eccezioni sono un meccanismo che permette di andare a gestire delle anomalie, degli errori, ci permettono di andare a distinguere tra quelli che sono i casi nominali e il codice di gestione dell'errore, perché il codice nominale sta all'interno del blocco try, e poi ho i blocchi catch che mi permettono di andare a gestire le situazioni di errore. Quindi, ho questo disaccoppiamento di codice nominale e codice di gestione degli errori. Le eccezioni sono utilizzate in maniera assolutamente molto diffusa e pervasiva all'interno di Java, dei libri a Java. Abbiamo già visto dalla prima lezione in cui abbiamo provato a scrivere del codice Java che, se utilizziamo un puntatore nullo, viene generata un'eccezione di tipo null pointer exception. Quindi, tutte le anomalie in Java vengono gestite tramite delle eccezioni. Le eccezioni, che cosa sono? Non sono altro che delle classi che estendono direttamente e indirettamente la classe trouble. Inoltre, io ho alcune sottoclassi particolari, ho la classe error, la classe runtime exception e la classe exception, che mi permettono di andare a identificare dei gruppi particolari di eccezioni. Gli errori sono già predefiniti e rappresentano dei problemi che sorgono nell'esecuzione della Java Virtual Machine. Le runtime exception sono dei controlli che vengono fatti dalla Virtual Machine e che corrispondono normalmente a errori di programmazione. Di nuovo il null pointer exception è l'esempio tipico. E poi abbiamo le eccezioni, che sono sostanzialmente tutte le altre eccezioni che vengono o predefinite nella libreria standard Java oppure definite da noi programmatori per andare a segnalare che c'è qualcosa che non funziona all'interno del codice che abbiamo scritto noi. Io devo, tranne per le eccezioni unchecked, gestire le mie eccezioni e lo posso fare sostanzialmente in tre modi. Posso rilanciare le eccezioni utilizzando un throws come dichiarazione, mettere un blocco tra i catch che mi permette di provare a eseguire del codice e nel caso ci sia un'eccezione intercettarla e fare qualcosa, oppure posso fare un mix che sostanzialmente consiste ad andare a mettere un blocco tra i catch e poi fare un re-throw dell'eccezione che era stata intercettata. In generale ricordiamoci che questo è obbligatorio soltanto per le eccezioni checked, mentre invece per le eccezioni unchecked, che sono quelle derivate da error oppure da runtime exception, questo obbligo di gestire le eccezioni non c'è. Per tutte le altre il compilatore ci segnerà un errore se non gestiamo l'eccezione.